Allora, presentiamo il prossimo sketch, a ripetemos tutto quantos, ci sta da capis? Bene, allora, presentiamo il prossimo sketch, è un balletto, un balletto strepitoso. Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri a Annalisa, tanti auguri a me. Bloccate, c'è sta la sicurezza? Scusate. Che stai a fare? Ma c'è il balletto? No. Ma è il compleanno tuo? No, prof. Come? Allora che vuoi? Cioè, fammi capire perché sennò qui la gente... Io faccio il compleanno il 13 agosto, però è stato estate, non c'è a me nessuno. Ah, è stata sola? Sì, cioè, con mamma, papà e mio fratello, mio fratello, mamma e papà. Siete sei? No, siamo sempre noi tre. Ah, ho capito, fate il giro. Vabbè, io voglio capire, che vuoi, cioè, questa sera, che posso fare per te, che possono fare? Vorrei trovare qualcuno che venga il mio compleanno. Li vuoi invitare? Sì! Ma ci volete andare il compleanno d'Analisa? Però lei è selettiva. Senti, Annalisa, vai a vedere chi vuoi invitarsi. Non ti buttare da qui, dovete... No, no. Allora, scusate, un attimo. C'è possibilità di accendere un attimo un po' la... Oh, grazie. E non so, adesso viene a scegliere qualcuno, qualche invitato. Ecco qua. Mi raccomando... Tu non mi piaci. Ma come ti piace? Tu sì. Tu sì. Non mi sei simpatico. Ma che stai a dire? Adesso devo scegliere chi mi piace a me. Ho capito, però non si dice così, Annalisa. Non ti volevo offendere. Passa avanti, va. Ah, comunque volevo di subito una cosa. Per il mio compleanno non chiedo niente di tanto costoso. La borsa d'Armani, il portafoglio di Gucci e l'orologio nella gas. Bene, poi... Qualcosa di... che costa poco. Vabbè, vai, mi invita, dai. Tu andresti bene con mia madre. E tu con mio padre, guarda, un goccetto di birra, niente di... Ma che stai, ma che... Niente di così... Qualcosa di... Tu... Scala 40... Niente di... Briscoletto, è uguale. Poi... Adesso, mi sono innamorata. Oddio, che hai visto? Che hai visto? Come ti chiami? Sei pesante. Ma come sei pesante? Come ti chiami? Chi hai visto? Chi hai visto? Questo mi sono innamorata. Davvero? Sì. Solo che come hai sordito non ti conviene. Questo te fa soffrire. Punta da un'altra parte. Che segno sei? Gemelli. Pestone leone con i gemelli. Tu con i gemelli fate proprio... Mamma mia, Pestone! Vabbè, vediamo un attimo. Passa avanti. Ma tu sei bello. Come ti chiami? Michele. Che bel nome. Ma... Di che segno sei? Acquario. Pesso, il leone con l'acquario. Pure con l'acquario? Ma vabbè, allora è un'epidemia. Vabbè, hai preso tutti? Sì. Ah, sentite. Io vi ho invitato. E se non volete venire, sapete che io festeggio tutto l'anno. Tanti auguri a me. Tanti auguri a me. Tanti auguri a me.